Ciao a tutti ragazzi, volevo fare un bocca al lupo in particolare a Manuel per l'esperienza che questo andrà a fare, vedrete che sarà comunque una cosa importante anche per noi italiani perché va comunque a portare la nostra musica anche in un altro paese, in Albania, a Tirana, dovrà stare comunque lontano per un po', in bocca al lupo, speriamo che vada bene, d'amoreno, ciao, incredibile, bravo, 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 la tua attenzione, la musica è sempre quello che ha nel cuore, grazie, ciao Albania, ciao, ciao, ciao Manuel, io non porto molto bene, però che volevo fare di bocca al lupo per X-Facto in Albania, spero che te lo vinca, ma non solo Albania, tutte le zone d'intorno, a cosa c'è vicino all'Albania? C'è l'Albania, l'Ungheria, la Romania, l'Italia, la Svizzera, il Belgio, il Benelux, tutti, insomma, che tu possa unire tutti i X-Facto in Roma, ciao e bucca al lupo. Un grande bocca al lupo al mio carissimo amico Manuel per questa bellissima esperienza in Albania, ciao belli, sosteniamolo, un abbraccio a te. Ciao ragazzi, io volevo fare di bocca al lupo a questo ragazzo qui, che partirà per un'esperienza unica, io ti auguro il meglio, spacca tutto, speriamo di sentire veramente belle notizie da te, ciao. Manuel, in Albania devi spaccare. Grazie Laura. In bocca al lupo. Grazie. Un in bocca al lupo a Manuel Moscati, per il suo X-Facto in Albania, devi vincere. Faccio un grande in bocca al lupo a Manuel Moscati, per questa bellissima avventura che sta per iniziare l'X-Facto in Albania, un bacione grande da Sara Memola, ciao. In bocca al lupo per questa avventura a X-Facto in Albania. In bocca al lupo a Manuel, vai spacca tutto, merda merda merda. Manuel, in bocca al lupo. Manuel per la prossima edizione iniziale, ciao. Un in bocca al lupo a Manuel Moscati, per la sua avventura a X-Facto in Albania. Ciao Manuel, come promesso ti mando il mio messaggio per un in bocca al lupo, per la tua avventura a X-Facto in Albania. Ciao, buona musica. Dargli un incoraggiamento il mio in bocca al lupo a Manuel, per la sua avventura a X-Facto e dai, metticela tutta. In bocca al lupo per l'avventura di Manuel a X-Facto in Albania, da Tony Maelio. Grazie Tony. Grazie. Grazie. Giulio, buonissimo, mi chiamano la prossima sera di X-Facto, ti spacca tutto, che stesso cerca la forza dell'unità, pensa a cosa male, a capitare le animali. Compositore, direttore, produttore di X-Facto in bocca al lupo per la sua nuova avventura, da Bianca a Zè, ciao. X-Facto in Albania 2000 è il 14, non ce lo portiamo il nostro compagno qua, Manuel. Un grandissimo bocca al lupo da Veronica De Simone, ma da tutta Italia. Grazie, Veronica. A Manuel, a Moscati, bocca al lupo, a lei finita. X-Facto per il programma, un bacione grande, a presto. Grazie. Ciao. A Manuel, a Manuel, a Moscati, per X-Facto, da Giada di Miceli. Ti raccomando. Allora, un augurio di bocca al lupo a Manuel, per novembre per X-Facto in Albania. Bocca al lupo. Grazie mille, grazie a te. Vai, chiede. Insicura, emotiva, sì, con beva, con beva. Allora, un augurio di bocca al lupo.